eccoli qua i 18 protagonisti il campionato del mondo individuale allora andiamo subito a conoscerli e cominciamo dalla giuria della gara cominciare dalla presidente della giuria della federazione in ecclese e questa sera sarà Mr. Tony Noel l'arbitro della gara arriva dalla Germania e quindi federazione tedesca per lui Mr. Frank Ziegler membro nazionale di giuria naturalmente nella duplice veste ormai lo sappiamo di commissario tecnico Armando Castagna il direttore di gara come sempre ormai qui a Terenzano Simone Terenzani e veniamo a presentare i 18 piloti veri protagonisti dicevo di questa il sera prossimo lui si che arriva a tutti gli effetti dalla lontana Argentina con il 5 Nicola Sicolotti a Terenzani a Terenzani a Terenzani a Puliche due centini di seconda a Terenzani a Terenzani a Terenzani a Terenzani a Terenzani a Terenzani vicini a Terenzani 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 Un'altra parte, un'altra parte. Il numero 6, 3 punti per Martin Buckley, 2 punti per Emiliano Sanchez e 1 punti per Nicolaus Covanti. Il numero 6, 3 punti per Emiliano Sanchez e 2 punti per Emiliano Sanchez. Attenzione all'attacco anche Nicolatti. Un giro ma è una termine. Ultimo attacco di Richardson, la piena scacchi, Zegota, Polonia, Richardson. Effembrock in terza posizione, vicinissimo ma in quarta posizione, il giovane Covatti. Sedicesima batteria, Salmona Stede in Agilaterra, Covatti in blu per l'Argentina, Mattia Cavicchioli, bianco Italia, il secondo degli argentini, Alende, giallo e nero in quarta. E allora i neghi in l'Alterra, due volte Argentina, Italia, dalla prima alla quarta corsia, Steve, Covatti, Cavicchioli, Alende. Attenzione alla giovane argentino all'attacco di Stede. Attenzione alla giovane argentino all'attacco di Stede. Alle girano è al termine! E allora, ecco la staccata ricolotti al giro, è al termine. Simon Destin, comandi! Andiera a scherchi, Simon Destin! Comandi in seconda posizione! Camichioni è in terzo, quarto a lente! La batteria! Di palla, Franchetti, Roni Sulemini e Nicola Stolati! E allora attenzione, di palma, Franchetti, Roni Sulemini e Nicola Stolati! Attenzione all'attacco di Colatti! Passa la scherchi! Passa la scherchi! Passare attenzione! La ricetta scofferta e seed passare defendo scegla! facciamo l'aria del passaggio del terzo giro e siamo in addirittura d'arrivo, bandiera a scacchi, Guglielmo, Branchetti, Covatti e Roy Slane nel seconda e terza posizione